ciao a tutti e benvenuti a quest'ultimo appuntamento sui macronutrienti non ci restava che parlare dei grassi o lipidi e quindi vediamo un po che cosa sono esattamente i grassi perché è importante distinguere gli alimenti ricchi di grassi saturi da quelli insaturi e come possiamo riconoscerli e infine quanti e quali grassi consumare iniziamo col dire che sono i grassi sono i nutrienti che forniscono all'organismo più energia circa 9 chilocalorie per grammo e per questa loro caratteristica sono spesso considerati negativamente i grassi invece nelle giuste quantità sono necessari per la crescita e la salute dell'uomo proteggono gli organi vitali da possibili traumi e fungono da isolante termico per difenderci dalle basse temperature infine insieme alle proteine e all'acqua danno alla pelle morbidezza ed elasticità e non meno importante contribuiscono a dare sapore al cibo e favoriscono il senso di sazietà ma che cosa sono esattamente i grassi allora si possono dividere in due grandi gruppi i grassi visibili quelli detti da condimento come gli oli il burro i margarini nel lardo e lo strutto e i grassi nascosti come quello dei formaggi latticini nella carne nel pesce nelle uova e nella frutta secca a seconda della loro formula poi gli acidi grassi possono essere saturi insaturi nel gruppo degli insaturi fanno parte anche gli acidi grassi famosi omega 3 omega 6 che sono definiti essenziali perché il nostro organismo non è in grado di produrli da solo e per questo devono essere introdotti con la dieta mangiando cosa allora gli acidi grassi omega 3 sono gli oli di pesce e li troviamo appunto in alcuni tipi di pesce come le acciughe il salmone gli sgombri mentre invece gli acidi grassi omega 6 li troviamo soprattutto in oli vegetali come l'olio di girasole e di mais nelle noci e nei legumi ma perché è importante distinguere gli alimenti ricchi di grassi saturi da quelli di grassi insaturi dobbiamo dire che tutti i grassi hanno lo stesso valore calorico ma diversi effetti sulla nostra salute e quindi un eccessivo consumo di alimenti ricchi di acidi grassi saturi comporta un rischio maggiore per le malattie cardiovascolari aumentando il colesterolo nel sangue mentre invece gli acidi grassi insaturi abbassano i livelli di colesterolo cattivo e proteggono le nostre arterie il nostro cuore per questo è importante ridurre il consumo di cibi di grassi saturi e prediligere quelli ricchi di grassi insaturi ma come li possiamo riconoscere i grassi saturi sono solidi a temperatura ambiente e sono per esempio quelli contenuti nella carne il burro i formaggi le uova lardo e lo strutto si trovano prevalentemente negli alimenti di origine animale mentre invece i grassi insaturi sono liquidi a temperatura ambiente e si trovano in alimenti di origine vegetale come per esempio l'olio di oliva ricco di acido oleico però dobbiamo fare attenzione ci sono delle eccezioni perché per esempio il pesce la carne di pollo e di maiale hanno importanti quantità di acidi grassi poi insaturi mentre l'olio di cocco e altri oli tropicali come per esempio l'olio di palma sono ricchi di grassi saturi e un'alimentazione troppo ricca di grassi saturi è dannosa per la nostra salute inoltre gli oli vanno conservati ben chiusi in ambiente fresco lontano da fonti di luce e di calore per cui nelle bottiglie trasparenti non funziona non va bene inoltre è consigliabile usare gli oli di semi sempre a crudo perché se li sottoponiamo ad alte temperature possono liberare delle sostanze nocive l'olio migliore per cucinare o per friggere e l'olio extravergine di oliva oppure l'olio di arachide infine quanti e quali grassi consumare per avere una dieta equilibrata e salutare è necessario che i grassi non superino il 30 per cento delle calorie tra i tipi di grassi siano privilegiati i cibi ricchi di acidi grassi mono insaturi e venga ridotto il consumo di grassi saturi idrogenati quindi in fin dei conti la nostra dieta mediterranea ce lo insegna usare per cuocere e condire esclusivamente olio di oliva extravergine e privilegiare il consumo di pesce e legumi moderando quello di carne e formaggi tutto chiaro no ok se avete domande o dubbi iscrivete sul nostro canale io vi saluto vi ringrazio spero che vi sia stato utile e alla prossima ciao a tutti ciao elisa